Uno dei principali obiettivi che si pone un'AMSI è quello di garantire una corretta informazione in abito medico scientifico, cosa che fa da un lato in maniera indiretta, promovendo un'aggiornamento della classe giornalistica, perché l'informazione sia sempre inappuntabile e corretta. E poi direttamente anche sul pubblico, sui pazienti, con delle iniziative, tra cui appunto recentemente quella che abbiamo promosso insieme al Centro Studi Ricerche Amplifon e SIAF, con la realizzazione di un libretto per la prevenzione della salute dell'orecchio. Un libretto che abbiamo redatto con un linguaggio inappuntabile da un punto di vista scientifico, ma semplice e accessibile per il grande pubblico. Grazie.